Diamo benvenuto a Damir Kudari, Head of Sales, Asset Management per Kairos, al quale vogliamo chiedere un primo bilancio di come sta andando questo 2019 per voi. Beh sì, diciamo che alla luce dei risultati del 2018 è stato straordinariamente negativo, poi c'è stato il classico rimbalzo, 2019 che è iniziato molto bene, molto forte, tendenzialmente tutte le classi di attivo rischiose hanno recuperato la metà, due terzi di quello che era stato perso nel 2018, di fatto soltanto in un trimestre, quindi i dati sono molto buoni, molto incoraggianti, probabilmente se dovessimo trovare la vera ragione di questa forte inversione rispetto a, se pensiamo a un ottobre, novembre, dicembre, molto negativi, e che di fatto da ottobre ad oggi l'atteggiamento delle banche centrali è radicalmente cambiato. Dopo il 2018 molto complicato, in Kairos abbiamo cominciato a fare anche delle valutazioni di prodotto e di approccio, la definizione di follia per Einstein era continuare a fare la stessa cosa, nello stesso modo non può produrre risultati diversi e la follia è aspettarsi che il risultato cambia, noi sfidiamo questa cosa perché è back to basic, quindi siamo ritornati a fare le cose in maniera molto semplice e faremo dei prodotti che dovranno accompagnare i clienti ad essere più vicini e più legati anche al corretto orizzonte temporale. Ci sono delle opportunità ma necessitano del corretto orizzonte temporale che deve essere chiarissimo sin dalla partenza.